Qual è la transgressione? Vedo una specie di circolarità tra il nuovo e il vecchio, per cui il progetto nel mio caso è una specie di pendolo che viaggia sia tra ipotesi di un futuro e un passato, sia attraverso i miei anni, perché io per esempio lavoro su delle cose che ho pensato 30 anni fa. E allora più di transgressione nel mio caso potrei parlare di un patchwork di idee che però nella sua combinatoria evidentemente diventa interessante nel momento in cui crea dei problemi, cioè non è completamente tranquillo, non è completamente nella logica e nel senso è... la parola transgressione non mi piace ma è un po' oggettivamente un po' del testito.